Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPI lì per incidente chiuso il tratto tra Santa Croce e Montopoli in entrambe le direzioni con 6 km di coda in direzione mare tra Empoli Ovest e Santa Croce e 6 km di coda in direzione Firenze tra Ponte della Ovest e Montopoli. Per traffico intenso ci sono poi code in uscita all'Astra in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze sul ponte all'Indiano restringimento di carreggiata per incidente con code in aumento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!